C'è un posto in cui la verità è importante, anche se la maggior parte della gente non vi presta attenzione. La nostra organizzazione è sempre alla ricerca di coloro che apprezzano la verità. Se qualcuno verrà sorpreso a copiare, verrà giustiziato. Gi-giustamente, giustamente eliminato. E i nostri criteri di approvazione si possono considerare misteriosi. Signor Benedict, abbiamo la nostra squadra. Salve. Sono il summenzionato signor Benedict. Possedete una dote che è assente nella nostra società. Rainy, l'istintiva comprensione della natura umana. Sticky, un serbatoio di conoscenza. Constance, il disprezzo per il pensiero convenzionale. Kate, la cume nel trovare soluzioni. Cosa avete tutti in comune? Io vedo paura e brutti vestiti. Sei davvero antipatica? Ok. Voi siete gli unici in grado di vedere la verità. E insieme siete immensamente potenti. Parteciperete a una missione che può essere compiuta solo da bambini. Una forza ci sta facendo il lavaggio del cervello. E sì, lui è mio fratello gemello. Aveva bisogno di un gruppo di orfani intelligenti per una missione letale. È chiaro? In teoria non è letale. Grazie a tutti.